Riteniamo che il clamore mediatico della vicenda abbia potuto comportare comunque un clima tale che forse, cioè che noi riteniamo che sicuramente abbia avuto il suo peso in tutta questa vicenda processuale. Un ricorso alla Corte Europea dei diritti umani e la valutazione se ci fossero gli estremi. Per una revisione del processo in Corte d'Appello, il difensore di Luca Vanneschi, l'avvocato del foro aretino Stefano Buricchi non ha dubbi questo processo totalmente indiziario a carico dei due giovani aretini sarebbe da rifare. Le sentenze le rispettiamo, come è ovvio però le critichiamo, leggeremo ovviamente i motivi della sentenza della Corte di Cassazione e sulla base di quelli ovviamente faremo le nostre valutazioni. Quello che desta assolutamente più sconcerto è il fatto che ben 24 testi a difesa siano stati completamente elisi dal processo di primo grado che ritenne di non dover, una volta che erano stati ammessi, ritenne poi di rievocare l'ordinanza ammissiva di questi 24 testi. Allora io lascio ovviamente giudicare a voi, nel senso che ci troviamo di fronte a un processo indiziario con un andamento processuale assolutamente ondivago, ricordiamo condanna in primo grado e assoluzione della Corte d'Appello di Firenze per entrambi i capi di imputazione perché il fatto non sussiste. Sentenza della Cassazione che dispone di un nuovo processo di appello e una nuova condanna. Nei processi indiziari non è che parliamo di verità storica, ma parliamo di verità processuale, parliamo di prova indiziaria, di prova logica. Vanneschi e Albertoni non andranno in carcere la pena e sotto i quattro anni e i difensori presenteranno istanze di affidamento in prova ai servizi sociali. Il suo assistito che le ha detto a sentenza uscita? Ovviamente mi ha assistito con l'andamento soprattutto della sentenza della Corte d'Appello bis che aveva ribaltato la sentenza della precedente Corte d'Appello che li aveva assolti, nutriva una profonda sfiducia. Ovviamente essendo convinto della sua innocenza, ma anche noi essendo convinti dell'innocenza, vi anticipo che sicuramente ricorreremo alla Corte Europea di Diritti dell'Uomo. E quindi mi ha detto che spera di trovare in ambito europeo quella giustizia che purtroppo non ha trovato, richiene di non aver trovato in Italia. Quindi ci apprezziamo, sicuramente depositeremo un ricorso alla Corte Europea di Diritti dell'Uomo e sicuramente valuteremo con estrema attenzione se non vi sia la possibilità di percorrere anche la richiesta di revisione del processo. Ovviamente se vi saranno margini per questo, voi sapete bene che sono richieste nuove prove, ma qui abbiamo 24 testimoni che non sono stati sentiti e che dicono cose formidabili a difesa dei due imputati. Se vi saranno gli estremi sicuramente percorreremo anche la strada di una richiesta di revisione del processo.